Nel nostro viaggio nei sotterranei e nei soffittoni dei Musei Vaticani, in questi mesi abbiamo visitato molti dei 40 ambienti deposito delle collezioni d'arte e storia raccolte o donate ai papi nei secoli. Depositi dove il tempo si è fermato, come il magazzino delle corazze o la galleria delle terre sigillate e dove la tecnologia non entra a turbare antichi equilibri e ambienti tecnologici come il deposito del reparto egizio, che custodisce sarcofagi in legno e mummi umane dotati di complesse unità di trattamento dell'aria e sensori di temperatura, umidità e anidride carbonica. La stessa tecnologia che tiene sotto controllo l'alia della cappella Sistina. I sensori sulle pareti affrescate dai Michelangelo e dai quattrocentisti, come quelli dei depositi, mandano il loro segnale via radio a questi computer dell'ufficio del conservatore Vittoria Cimino. È una sorta di cabina di regia dove si elaborano le strategie di buona conservazione e anche dove arrivano i segnali da parte di tutti i musei, i luoghi di esposizione come i luoghi dei depositi. Queste spie che noi mettiamo perifericamente registrano quello che succede sul posto e mandano i loro segnali, quello che hanno registrato, in questo luogo che è l'ufficio del conservatore, dove in questi monitor noi riceviamo i segnali e li elaboriamo statisticamente. Abbiamo questo sensore per esempio che ha una testina così piccola, a meno di un centimetro, che viene applicato sulla superficie degli oggetti e registra esattamente quello che succede su questa superficicità, delle indicazioni molto importanti. In questa maniera noi possiamo avere una rete di sensori vasta e complessa, come quella della cappella sistina, oppure possiamo avere delle informazioni strategiche che ci dicono che cosa succede, per esempio parliamo di depositi oggi in quel deposito. Cerchiamo di tenere sotto controllo quelle condizioni che attiverebbero il degrado e lo renderebbero più veloce. E quali sono queste condizioni? La temperatura e l'umidità relativa. I materiali più sensibili, i materiali di natura organica, come il legno, come la carta, per la loro costituzione chimica e per la loro microstruttura, sono in grado incredibilmente di mettersi, come si dice, in equilibrio con l'ambiente. Significa che a livello microscopico le fibrille del legno assorbono o cedono umidità, a secondo di quello che trovano nell'ambiente. In questa maniera si rigonfiano o si ritirano e questo nel tempo procura quello che noi non vorremmo, gli spaccamenti, le fessurazioni, la caduta di colore. Però noi possiamo agire preventivamente e quindi possiamo, conoscendo le condizioni dell'ambiente, dove è possibile, installare dei sistemi di condizionamenti ambientali. Le UTA sono degli apparecchi abbastanza sofisticati di trattamento dell'umidità dell'aria. In ambienti tecnologici, come il magazzino quadri o i depositi del museo etnologico, si realizzano anche trattamenti di disinfestazione degli oggetti e le opere sono in condizioni di conservazione sensibilmente migliori rispetto a quelle in esposizione. Ancora Vittoria Cimino. È importante che una parte delle opere dei musei permanga per molto tempo nei depositi, perché in questa maniera viene sottratta l'usura che purtroppo subiscono le altre opere. Infatti i depositi servono anche a questo, a tenere a disposizione delle opere il ricambio periodico di quelle esposte. I capolavori assoluti, le opere che sono importanti per il messaggio del museo, le opere identitarie, sono quasi sempre in esposizione. Nei depositi noi non troveremmo il capolavoro. Il deposito è il luogo dello studioso, è un luogo comunque accessibile, perché la direzione dei musei mette sempre a disposizione di tutti coloro che ne fanno richiesta, con motivazioni serie, l'accesso nei depositi. Il nostro lavoro degli ultimi anni è intanto quello di tenere in buona salute tutte le opere, anche quelle dei depositi, quelle di conoscerle, di frequentarle con regolarità e anche quello di poterle rendere sempre più disponibili e sempre più studiabili.